Una volta io venivo qui in questo posto che noi chiamiamo spot, ovvero un luogo dove si si allena per far parkour. Adesso vi farò vedere un attimo il parkour che si può fare qui e soprattutto come si fa. Vedere questo è parkour, questo è parkour, questo è parkour, questo è parkour. Poi altre robe da esperti di parkour sono ad esempio queste. Cioè che cadere con stile, quella gente nel parkour, nel tricking, queste cose qua. Vedete questo muro? Questo muro io posso scavalcarlo facendo parkour. Pio vado e faccio... Poi ci sono anche le capriole, posso fare le capriole e arrivare qua.